Da alcuni anni nella nostra parrocchia, in occasione della festa di Sant'Antonio di Padova, patrono di questa comunità parrocchiale, i frati minori, in collaborazione con i laici, hanno pensato di organizzare questo corteo storico che ha la semplice funzione di rievocare il momento del transito di Sant'Antonio, cioè il momento del passaggio dalla vita terrena alla vita di Dio. Questa rievocazione ci fa comprendere come la morte dei Santi, è una morte speciale, straordinaria, perché è frutto di un percorso che è stato vissuto in una fede di totale obbedienza a Dio. E Antonio, anche nel momento della morte, si affida in obbedienza a Dio e consegna a lui l'anima. Questo corteo vuole rappresentare tutta una città che accorre alla morte del Santo, un corteo che coinvolge i nobili e i poveri, i semplici e i dotti, perché Antonio era un santo di tutti, era il santo dei sapienti, ma era anche il santo della gente semplice e anche la sua morte raccoglie tutti intorno a sé. Noi ci auguriamo che nella nostra parrocchia Sant'Antonio possa ancora oggi donarci questo grande esempio di unità intorno alla persona di Gesù e all'intercessione di Sant'Antonio, tutti si possano sentire uniti in un'unica famiglia e vivere una grande fraternità. Poi quest'anno questa festa assume anche una veste particolare perché rientra nella cornice solenne dei festeggiamenti del settantessimo anniversario della parrocchia e quindi chiediamo a Sant'Antonio, nostro patrono, di continuare a benedire questa parrocchia, di donarle frutti degni di vocazioni al sacerdozio, alla vita consacrata, alla vita matrimoniale e di donarci uomini e donne che sappiano con coerenza annunciare il Vangelo al nostro tempo.